SuperSite ti permette di impostare un titolo, una descrizione SEO e le parole chiave SEO per ogni pagina presente nel tuo sito web. Per farlo, clicca sulla sezione Posta in alto, che riporta il nome della pagina corrente. Dalla finestra che viene mostrata, clicca sull'icona dei tre punti, in relazione alla pagina per cui si intende eseguire le modifiche. Seleziona poi la voce Modifica impostazioni pagina. Nella schermata successiva, puoi modificare il titolo da mostrare sul browser, vale a dire il titolo della pagina che i motori di ricerca prendono in considerazione. Puoi impostare anche le parole chiave SEO insieme ad una descrizione SEO della pagina, entrambi utili in fase di indicizzazione. Clicca infine su Fatto per confermare le modifiche. Per l'indicizzazione, i motori di ricerca possono richiedere l'indirizzo della sitemap del dominio. SuperSite 10 prevede la creazione automatica di questa informazione, che è reperibile all'indirizzo www.nomedeltuodominio.estensione.sitemap.xml